Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Focus Territorio e sviluppo. Il programma di TCA Trentino TV in collaborazione con gli esperti di Trentino Sviluppo dedicato appunto allo sviluppo territoriale, all'impresa e all'innovazione in particolare. Nella puntata di oggi parleremo dell'operazione Tetti Puliti legata al fotovoltaico e anche alla valorizzazione del patrimonio immobiliare delle società di sistema della provincia, in particolare di alcuni capannoni. Ne parliamo con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Questa sera con noi c'è l'assessore provinciale all'industria, al commercio e all'artigianato Alessandro Olivi. Benvenuto. Grazie, buongiorno. E con noi anche il presidente di Trentino Sviluppo Diego Lanner. Grazie. Entriamo nel merito dell'argomento di questa puntata e coinvolgiamo subito l'assessore provinciale all'industria Alessandro Olivi. Dunque una provincia che sta investendo nella riqualificazione e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare fotovoltaico, ne parleremo in particolare con l'ANER e poi cos'altro? Innanzitutto va premesso che il Trentino è un territorio dove non abbiamo molto spazio per insediare strutture produttive. È una responsabilità della politica che poi è una responsabilità, direi anche etico-morale, è quella di valorizzare il territorio col minore ingombro possibile di nuovi impianti e nuova urbanizzazione valorizzando ciò che c'è. Sul fronte del patrimonio produttivo questo significa recuperare il patrimonio esistente, valorizzarlo in termini sia di maggiore compatibilità e sostenibilità con l'ambiente, significa anche fare in modo che le imprese che chiedono alla provincia tramite Trentino Sviluppo di potersi insediare all'interno di questi nuovi poli produttivi abbiano la possibilità di farlo partendo da ciò che la crisi, i cambiamenti di questi ultimi anni ha riconsegnato ai me insomma come potenzialità da sfruttare prima ancora che andare ad implementare e consumare ulteriori territori. Il primo focus su cui noi ci stiamo concentrando è riqualificazione di ciò che c'è, poi evidentemente anche con un occhio particolare all'ambiente perché ora di smettere di pensare che un cappannone industriale debba essere un qualcosa che crea frattura, discontinuità rispetto al tema del paesaggio e dell'ambiente, oggi dobbiamo dare l'esempio che nei luoghi del lavoro, nei luoghi dove si produce il rapporto con il territorio anche in termini di inserimento paesaggistico, in termini di risparmio energetico, in termini di utilizzo di tutto ciò che significa energia rinnovabile deve essere uno degli elementi che caratterizza e dà profilo alle nuove politiche industriali del territorio. Quindi un'idea di rinascita magari sotto altre forme per alcuni compendi inindustriali e artigianali, entriamo magari in alcuni casi concreti, c'è quello della Omga di Grigno piuttosto recente, quello della Lovara di Malè e poi un altro caso ad Avio tra i principali. Sì, sono tre esempi molto concreti, noi avevamo tre siti produttivi storici dove a causa della crisi le aziende avevano abbandonato completamente quelle destinazioni, ci siamo trovati a dover fare i conti con anche così la frattura sul piano del rapporto con le comunità, di vedere luoghi che un tempo erano luoghi che davano lavoro a possibili sostanzialmente relitti che in qualche modo segnavano anche il fallimento di una stagione industriale, bene con una azione meticolosa di ascolto del territorio, coinvolgimento delle istituzioni locali, delle associazioni di categoria, noi ad Avio, a Malè e a Grigno abbiamo sui mobili di proprietà di Trentino Sviluppo, vuoti, abbiamo ricollocato nuove imprese. L'abbiamo fatto approcciando il percorso in modo nuovo, non abbiamo cercato necessariamente un'azienda delle stesse dimensioni di quella che se ne era sostanzialmente andata, quindi puntando necessariamente sull'industria e quindi l'unicità del soggetto imprenditoriale. Un modello flessibile insomma. Ma un modello molto più flessibile, molto più utile per dare delle risposte anche alle piccole e medie imprese di quel territorio e stimolarle a fare anche operazioni di aggregazione, di filiera, noi abbiamo realizzato sostanzialmente in queste tre aree dei condomini artigianali dove anche piccole imprese hanno potuto accedere al patrimonio produttivo pubblico a condizioni anche economicamente vantaggiose, ma soprattutto potendo mettere in rete le loro potenzialità e questo ha consentito in tre valli tra l'altro del Trentino, quindi in tre aree tendenzialmente periferiche, di restituire alla comunità opportunità di lavoro e di sviluppo. E oltre a tutto ciò, oltre a questi compendi industriali che si rifanno il LUC e che nascono a nuova vita con una nuova vocazione industriale, c'è anche un'altra opportunità legata al fotovoltaico per le imprese trentine, ne parliamo tra poco con il presidente di Trentino Sviluppo Diego Laner, prima entriamo nell'argomento con la prossima scheda. Quasi 70.000 metri quadrati di capannoni industriali da coprire con pannelli fotovoltaici per una superficie complessiva pari a 17 campi da calcio. È una vera e propria operazione Tetti Puliti, quella lanciata da Trentino Sviluppo, che mette a disposizione di imprese e altri soggetti privati la possibilità di installare impianti fotovoltaici sui propri immobili industriali, beneficiando delle rendite economiche che derivano dalla produzione di energia elettrica. In cambio il privato si impegna a versare un canone annuo che varia in funzione dei megawatt installati. Dieci gli immobili industriali interessati dall'operazione tetti puliti. Il più importante è quello dello stabilimento Whirlpool, a spinni di gardolo, con 30.000 metri quadrati di superficie a disposizione, seguito dalla ex Nicolini a Pieve di Bono, 8.000 metri quadrati, dal tetto della Watts Londa, la Vis, e da quelli degli stabilimenti Sicor in zona industriale a Rovereto, Gunnebo a Trento, ex Elvag a Storo, Maino ad Arco, filiera agroalimentare Trentina a Castelnuovo-Valsugana, elettrica rotaliana a Mezzolombardo ed ex Mecmar ad Arco. Aziende, consorzi o altri soggetti possono inviare la propria manifestazione di interesse a Trentino Sviluppo entro il prossimo 12 aprile. Il testo integrale dell'avviso pubblico è disponibile sul sito www.trentinosviluppo.it nella sezione Bandi e Appalti, dove sono disponibili anche le schede tecniche di ogni singolo immobile interessato dall'operazione. Presidente Laner, lo abbiamo visto nella scheda, un'operazione imponente, soprattutto senza precedenti in Trentino, da dove è nata l'idea? Sì, è un'operazione importante, ma l'idea è nata dalla nostra mission e sapete che Trentino Sviluppo ha sostanzialmente tre diversi focus all'interno della propria mission. Il primo è attività a favore delle imprese, il secondo è l'innovazione, il terzo è la sostenibilità, sostenibilità nella fattispecie, sostenibilità del tipo ambientale e su questo Trentino Sviluppo, cito l'operazione degli ultimi periodi sostanzialmente, pensiamo al progetto Manifattura, pensiamo al polo della meccatronica, certificazione LID, quindi un immobile industriale con caratteristiche altamente sostenibili, pensiamo ad Arca, la costruzione di case in legno, quindi il Trentino Sviluppo è molto impegnata nella sostenibilità ambientale, ma non solo, va detto che circa un anno fa, assieme alla provincia, assieme al Comune di Rovereto, stessa Trentino Sviluppo e tutte le associazioni di categoria, è stato firmato un accordo, un protocollo, un nome che non mi piace, FIRE, fotovoltaico, industriale, energie rinnovabili, che ha impegnato Trentino Sviluppo, assieme alla provincia, assieme al Comune di Rovereto e alle associazioni, Trentino Sviluppo per quanto riguarda specificatamente, di mettere a disposizione i propri tetti per migliorare l'ambiente in senso lato. Questa è la prima attuazione di quel protocollo. L'operazione oggettivamente è imponente, si parla di 70 mila metri quadri di tetti messi a disposizione con una manifestazione di interesse, con un avviso pubblico e pensiamo che, dalle richieste che abbiamo avuto quantomeno, possa la gara avere numerosi partecipanti e quindi sostanzialmente realizzare indicativamente 5-6 mega di energia elettrica. 5-6 mega corrispondono indicativamente a 5-6 milioni di kilowattora, quindi l'operazione è veramente importante. Tra l'altro riprende delle esperienze che abbiamo già testato, abbiamo fatto già tre tetti in questo modo, Trentino Sviluppo, lo diremo dopo, ha un vantaggio perché coibenta il tetto, quindi dà un miglior risparmio energetico e dà la possibilità di lavorare meglio all'impresa. Quindi una serie di vantaggi che oggettivamente ci sembrava di percorrere. Il Consiglio dell'Unanimità ha appunto approvato questo progetto e speriamo che vada bene. Il BAN, appunto l'avviso, scade al 12 aprile. Il 12 di aprile le modalità anche attraverso il sito, come abbiamo visto nella scheda precedente. Vorrei tornare un attimo proprio ai vantaggi cui accennava. Ci sono vantaggi per Trentino Sviluppo, ma anche per gli altri soggetti coinvolti, a cominciare dalle ditte che lavorano nel settore fotovoltaico e poi anche passando alle ditte che invece operano e hanno la loro attività produttiva all'interno di queste strutture. Ecco, vediamo quali sono i soggetti interessati a quest'operazione. Trentino Sviluppo, Trentino Sviluppo in quanto proprietario degli immobili. Trentino Sviluppo ha questo vantaggio, vuole fare quest'operazione a costo zero, sostanzialmente a costo zero, recuperando gli immobili o ottenendo un canone da parte dei soggetti che realizzano gli impianti. Ci sono poi le imprese che operano sul territorio provinciale, evidentemente, nel settore fotovoltaico, questo è un vantaggio che hanno la possibilità di svolgere in maniera più razionale la propria attività e quindi fare questi investimenti. Infine, una cosa molto importante, quella che come Trentino Sviluppo ci preme di più sostanzialmente, le imprese insediate. Ecco, le imprese insediate, oltre che avere sicuramente un'ottimizzazione energetica del proprio capannone dove stanno operando, vedremo anche se è possibile riconoscere un quid per il disagio che hanno queste imprese, per i lavori che vengono effettuati. Non siamo ancora sicuri, dobbiamo capire evidentemente quali saranno le proposte, ma l'obiettivo del Consiglio è appunto quello di cercare di riconoscere qualcosa alle imprese che sono insediate all'interno del capannone. È importantissimo questo. Ecco, dico una cosa, l'investimento previsto, noi abbiamo stimato che sia indicativamente sui 15 milioni di euro. Quindi anche questa è una cifra importante che dovrebbe consentire qualche piccolo miglioramento. Certo, sostanzioso. Con l'assessore Olivi volevo chiudere questa puntata invece magari con qualche anticipazione sul futuro di Trentino Sviluppo. Insomma, c'è in atto un riordino a livello provinciale, insomma, dei dipartimenti, lo sappiamo, maggiore efficienza e più snellezza, ma anche Trentino Sviluppo sta cambiando, si parla di tre rami di azione e di intervento. Che cosa ci può dire per ora? Sì, noi siamo convinti che Trentino Sviluppo, che in questi anni, voglio ricordarlo, è stata una società che ci ha davvero aiutato nell'affrontare, in particolare in questi ultimi tre anni, la crisi con una capacità di affrontare i problemi con concretezza, con grande efficacia, è stato un alleato fondamentale della politica industriale, in particolare della provincia. Tuttavia, dobbiamo prendere atto che lo scenario davanti a noi è cambiato, c'è la necessità non solo di coordinare meglio l'attività che ruota attorno alla pubblica amministrazione, efficientare le strutture, razionalizzare dove è possibile, creare dei veri poli di specializzazione e anche nel settore dello sviluppo dell'economia noi dobbiamo avere una unica regia sostanzialmente che tenga assieme questo Trentino multisettoriale che è poi la ricchezza sostanzialmente della nostra piattaforma economica e sociale. Per cui l'idea è quella di una Trentino sviluppo che amplifichi sostanzialmente il proprio raggio d'azione con un'unica cabina di regia dal punto di vista strategico rispetto alle politiche di sostegno alle imprese e le politiche di implementazione di servizi a favore dell'impresa sul territorio. Quindi operazione numero uno è includere dentro questo progetto il ramo del turismo in quanto Trentino marketing verrà sostanzialmente incorporato da Trentino sviluppo, quindi dedicare una divisione a quegli interventi di sistema che hanno molto più a che fare con il territorio, con i sistemi integrati che sono appunto quelli che debbono supportare questo fondamentale settore dell'economia che è il turismo. Trentino sviluppo lo voglio dire continuerà ad essere sostanzialmente la società più vicina, l'interfaccia più immediato e concreto del mondo produttivo, quindi industria, artigianato e tutti i settori sostanzialmente del secondario ed infine c'è questa importante novità, noi oggi dobbiamo avere la forza di far diventare il Trentino una grande piattaforma dell'innovazione dove i grandi investimenti che sono stati fatti in questi anni in ricerca, in sviluppo diventino sempre più valore economico per il territorio, il differenziale competitivo del Trentino oggi dentro l'Italia ma anche in un rapporto più ampio è quello evidentemente di essere un territorio che attrae investimenti ad alto valore aggiunto, per questo pensiamo che Trentino sviluppo debba essere la società che promuove attraverso le sue competenze, le professionalità, l'innovazione a favore delle imprese e costruisce soprattutto su alcuni settori, quei distretti, quelle filiere, il Presidente Lander prima faceva l'esempio del progetto della meccatronica che fosse il progetto che più è paradigmatico di questa nuova alleanza tra la conoscenza, la formazione e le imprese, quindi ci sarà una sezione dedicata all'innovazione, alla creazione di distretti, alla creazione di filiere perché noi credo che la crescita e lo sviluppo futuro del Trentino specialmente per i settori dell'industria, della nuova manifattura passa attraverso una forte rigenerazione connotata dalle conoscenze e qui poi sarà anche possibile che il Trentino sviluppo più di quanto oggi accade possa essere connessa con il mondo della ricerca, con il mondo dell'università, anche grazie all'attuazione della delega, ecco dove noi pensiamo che questa società in futuro possa diventare ancora più strategica per guidare una nuova fase dello sviluppo in Trentino. Questo dunque il Trentino del futuro con un messaggio di fiducia nonostante la crisi lanciato dall'assessore provinciale all'industria, al commercio e artigianato Olivi che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie. Grazie al presidente di Trentino sviluppo Diego Laner. Grazie. L'appuntamento è per una prossima puntata di Focus territorio e sviluppo sempre su TCA Trentino TV. Grazie per averci seguito e buonasera. Grazie a tutti.